La sua vita l'ha trascorse interamente davanti alla macchina da presa, portando la pugliesità ben oltre i confini nazionali. Ma il suo compito, a quanto pare, non è ancora finito, tanto che da attore, conosciuto in tutto il mondo, si è trasformato in imprenditore, lanciando un marchio legato alle eccellenze della sua terra. Stiamo parlando di Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria, andriese di nascita e canosino d'adozione. Comico e personaggio televisivo tra i più noti e amati del pubblico, che di recente ha intrapreso un'attività nel settore agroalimentare, inventandosi un brand con un nome che è tutto un programma. Bontà Banfi, una linea di prodotti rigorosamente made in Puglia. Una missione che merita un premio l'ennesimo della sua brillante carriera, ma a consegnarglielo questa volta non sono stati artisti e persone dello spettacolo, bensì gli industriali della regione che gli hanno dedicato una targa per il suo ruolo di ambasciatore della cultura agroalimentare pugliese. La cerimonia, organizzata da Confindustria di Bari e Bat, è stata ospitata nella sede dell'Associazione degli Industriali di Barletta, dove l'attore e imprenditore è stato accolto da alcuni rappresentanti delle imprese del territorio. Mi ha fatto piacere quando ho saputo questa cosa di questo premio, un po' anomalo se vogliamo, nel mondo della Confindustria, ma buon augurante per me che mi sono buttato a fare questa cosa che mi diverte molto, perché mi sono buttato. Mio padre faceva l'ortolano ad Andrea, faceva il mediatore di vini, di oli, io ho sempre capito da ragazzino cosa avevo sul tavolo, perché c'era quella verdura sul tavolo, da dove veniva, questa è la Cepod de Margherite di Savoia, diceva mio padre, che non ha bisogno di sale perché cresce alle saline che è già salata. A noi questo non è che interessava molto da ragazzi, però c'è rimasto nel cervello questa cosa, queste considerazioni, altro che a chilometro zero, lì era a chilometro certo, sicuro, a portata di piede. Ho imparato molte cose e ho detto, visto che a Canosa, dove sono vissuto, dicevano, recà, tuo figlio vuole fare l'attore, va bene, è come mestiere? E come di un mestiere che vuole me? Diceva mio padre. Quindi adesso ho capito, ha la bella età di 82 anni che voglio lavorare. L'ennesima medaglia per il settore agroalimentare pugliese che si conferma più vivo che mai. All'interno della nostra Confindustria abbiamo delle realtà importantissime, abbiamo una sezione agroalimentare dove abbiamo dei grandi produttori di pasta, di vino, di olio, aziende veramente importanti nel nostro territorio e abbiamo la fortuna con Lino Banfi di avere un testimonial eccezionalmente valido e riconosciuto da tutti. Lino Banfi ci mette la faccia, ma la produzione la faranno delle aziende pugliesi. Quindi ben venga questo connubio, siamo veramente lieti e onorati, lo sono come Canosino, come cittadino pugliese, di avere la possibilità di annoverare tra i nostri soci il nostro Lino Banfi.